4 settembre sono le 7 del mattino, sono ancora fermo, tra poco faccio colazione e poi parto per Verre, sono 20 km da Shotillion a Verre, una passeggiata si passa anche attraverso Saint Vincent e arriverò e sarò accolto all'ostello della stazione di Verre, quindi buona giornata a voi e buon cammino a tutti i camminanti che sono sui cammini questa mattina e anche a me che ne ho bisogno perché quest'ultima tappa che ho fatto mi è un po' fiaccato fisicamente, quindi saluto a tutti, ciao! Via via via, vieni vedi qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti, eccomi qua, 2.11 pausa di merenda con una fetta di torta di carote, un po' d'acqua, sono a metà strada, mancano ancora 11 km, in queste due ore sono già riuscito a perdermi due volte nel bosco, spero prima o poi di arrivare sano e salvo all'ostello della stazione di Verres che mi accoglie in ospitalità al progetto, quindi continuo il mia merenda. Via 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 via, vieni via con me, entro in questo amore buio, pieno di uomini, via via via, entro e fatti un bagno caldo, c'è una capatoglia azzurra, bene, 15.35, sono arrivato finalmente a Verres, una tappa di 20 km abbastanza bella, con lo strappo in salita e in discesa finale veramente duro, insomma, ce la siamo incavata e adesso andiamo all'ostello Il Casello dove facciamo meritato riposo, doccia, pulizia e chiacchiere con i gestori dell'ostello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.